Oggi 12 dicembre 2023, ma guardate cosa ho di fronte, ma guardate bene, sono in Val Camonica, qui c'è tutto, c'è il sole, è una bellissima giornata, 10 gradi, saluto il mio amico Luigi, dirò saluto Raffaele e pure tutti quelli che mi seguono nel mio canale YouTube. Ma cosa ho di fronte? Che cosa ho la capanna neolitica? Ma qui siamo al tempo dell'epoca preistorica, ma guardate che bella questa capanna, ma guardate e soprattutto l'aria quiete, tranquilla, l'atmosfera che c'è qui del tempo che fu, ma guardate la capanna neolitica, ma potrò entrare, cosa vedo qua appeso? Ma che bello, che bello, che bello, che bello! Cosa sono queste cose appesi? Cosa sono capanna neolitica? Ma guardate dove vivevano una volta, la ricostruzione del parco di Naguara. Naguara. Sono esattamente vicino alla foppa di Nadro. Nadro. E sto per andare a piedi a Ceto, ma mi piace molto questa capanna. Certo che quando pioveva, qui entrava l'acqua. Gli uomini primitivi come facevano vivere qui, con tutte le comodità che ci sono il giorno d'oggi. Ma però mi entusiasma sapere il passato. Cosa sono questi qua? Cosa sono? Ma guardate, ma guardate che bella la Valcamonica. Quante cose nuove sto scoprendo. Qui l'aria del picnic. Dopo vengo io e Luigi dirò, lo porto qui a fare il picnic vista Fiume Olio, vista Valcamonica. Ma guardate qua non c'è niente, non c'è niente, ma per me c'è tutto. C'è la vita di un'epoca passata che rimormora al giorno d'oggi una certa vitalità nel ricordare. Ma l'acqua c'è tutto, c'è tutto. Le montagne sovrastanti. Qui siamo, come ho detto prima, a Nadro. Poi arrivo a Ceto e poi scendo sulla strada provinciale. Ma l'importante è essere qui, concepire che la realtà della vita esistenziale sono passati tanti anni, millenni avanti Cristo. Ora siamo nel 2023. Pensare che qui erano esistite persone che vivevano in uno stato primitivo. La loro vita era molto breve, confronto quella di oggi. Adesso vi faccio vedere la baccheca, poi chiudo capanna neolitica di Breno, ricostruzione. Ok, scendo qua, due chilometri, arrivo a Ceto, Ceto.